Bastano delle strisce pedonali bianco-rosse e qualche lettera B disegnata sull'asfalto per far dimenticare la condizione delle strade di Teramo? Certo che se B sta per buche e cioè per ricordare che abbiamo tante buche per le strade ha un significato, bene i festeggiamenti, l'allegria per il passaggio della serie B del nostro Teramo nel quadrato di calcio, benissimo, ma ora bisogna guardare effettivamente la situazione della città che è una città abbandonata, abbiamo tutte le aree verdi incolte con erba, abbiamo una serie di buche ovunque noi guardiamo e ci giriamo, facciamo pubblicità per incrementare l'utilizzo delle biciclette ma è impossibile andare in biciclette perché la città è piena di buche e quindi si rischia spesso di cadere non abbiamo problemi di frane su numerose strade, abbiamo la città incolta, basta pensare a tutti i graffiti chiamiamolo così, le scritte sulle mura della città, noi abbiamo Teramo, io credo che sia una delle città di Abruzzo che risulta più abbandonata e scarabocchiata, quindi credo che va fatta assolutamente una prevenzione e soprattutto una città sporca, questo è, per non parlare, la presenza anche di insetti animali come topi che girano per la città e che si ritrovano morti in tante parti, anche in giardini pubblici Arriva la Mille Miglia, arrivano gli Alpini, ma la Mille Miglia che strade troverà? Ecco io sono contenta che ci sono delle iniziative come le Mille Miglia, come gli Alpini, come le future squadre che verranno a giocare a Teramo, uno sviluppo anche sportivo e spero anche culturale della città perché Teramo ha bisogno di un movimento economico, se non c'è un movimento economico morirà e diventerà una città dormitorio, per cui questo è necessario, ma accanto a questo bisogna offrire qualcosa a chi viene, offrirli in termini di attività commerciale e di accoglienza ma anche in termini di bellezza, di bello, cioè quindi di presenza e soprattutto di strade fruibili.